L'equivocità insieme alla chiacchiera e alla curiosità costituiscono come ormai sappiamo dei momenti di quella che Heidegger chiama la comprensione inautentica dell'esserci. Ora la chiacchiera è un parlare che non si interessa affatto di ciò di cui parla perché per il chiacchierone come sappiamo l'importante è parlare, non importa quello che si dice, importa che si dica qualche cosa e che questo qualche cosa sia ciò che dicono tutti, ciò che pensano tutti. La curiosità allo stesso modo è un interessarsi di tutto senza veramente interessarsi di nulla. A questo punto noi potremmo chiederci ma che cosa significa interessarsi veramente di qualche cosa. Allora a me viene in mente, naturalmente è una mia libera interpretazione, che interessarsi veramente di qualche cosa significa indugiare, trattenersi presso l'ente di cui ci si interessa come dice Heidegger, la curiosità fa esattamente il contrario, non induggia, non si trattiene, è sempre alla ricerca dell'ultima novità e naturalmente quando questa novità cessa di essere tale, alla curiosità non importa più, ha bisogno di volgere lo sguardo altrove. Questo probabilmente significa non interessarsi veramente a qualche cosa, interessarsi di tutto in maniera provvisoria, ma in realtà non interessarsi di nulla. Allora interessarsi veramente di qualche cosa, per contrasto, significa trattenersi presso ciò che attrae la nostra attenzione, presso ciò di cui intendiamo in qualche modo appropriarci, nel senso appunto heideggeriano, della comprensione autentica, l'appropriazione, cioè il render proprio ciò di cui ci si interessa. se induggiamo veramente presso l'ente di cui appunto vogliamo comprendere l'essenza e questo ente potrebbe essere anche l'uomo, cioè potremmo essere noi stessi, gli altri, gli aspetti del mondo che più ci toccano, ebbene se induggiamo autenticamente su ciò che ci riguarda da vicino potremmo scoprire di non comprendere affatto quello che eppure in un primo momento sembrava così chiaro. E allora per citare quell'antico motto che si dice fosse iscritto sul tempio di Apollo a Delphi, conosci te stesso Gnothis e Auton, potremmo forse dire che un interesse autentico per l'ente su cui induge alla nostra attenzione ci porta in realtà proprio al contrario di quello che ci aspetteremmo e cioè alla non comprensione, per cui quel motto famoso potrebbe essere una ironica missione che in realtà più guardiamo dentro noi stessi, più cerchiamo di comprendere il mondo e gli altri, più ci immergiamo con serietà in queste indagini, in queste ricerche, più ci interessiamo autenticamente all'ente di cui ne va di noi stessi e cioè a noi stessi in relazione agli altri e più forse dobbiamo ammettere che la cosa si fa oscura da chiara che sembrava incomprensibile proprio quando pensavamo di averla ferrata e compresa e che in sostanza l'interesse autentico, l'autentico indugiare presso ciò di cui parliamo ci porterebbe ad ammettere la curiosità che crede che nulla le sia nascosto e l'equivocità che, come vedremo tra poco, si perde nelle chiacchiere al punto tale che non sa più decidere quale sia quel discorso che la apre ad una genuina comprensione e quale quello che chiude una genuina comprensione. All'inizio del paragrafo che tratta della equivocità, Heidegger dice che se nel quotidiano essere l'un con l'altro si incontra qualcosa di accessibile a tutti e su cui chiunque può dire qualunque cosa, ebbene diventerà presto impossibile decidere che cosa sia genuinamente compreso e che cosa no. Dunque la chiacchiera è sempre equivoca e l'interesse del curioso è sempre un interesse che non si sofferma sull'ente, che lo lascia andare una volta che l'ente si sia rivelato, così crede il curioso, in tutti i suoi aspetti. La caratteristica dell'equivocità è proprio quella di mantenere l'uomo in una perenne illusione su quel che egli crede, su quella opinione pubblica in cui ciascuno di noi sempre è e da cui risulta difficile distaccarsi, poiché ognuno di noi è in un certo senso schiavo di quella precomprensione dell'esserci, cioè di quella sostanza sociale comune, di quel dire comune, di quelle chiacchiere comuni, di quei pregiudizi, di quelle opinioni, di quel si dice che inevitabilmente incide sulla nostra possibilità di comprendere il mondo, gli altri e noi stessi. Parlando della curiosità, abbiamo detto che l'interesse autentico consiste nell'indugiare presso l'ente, fino al punto di non comprendere più. chi scende in profondità per cercare la luce è più probabile che trovi le tenebre. Chi veramente è interessato a comprendere può arrivare a quella strana meraviglia della non comprensione. E in effetti proprio Socrate che può essere considerato il nome tutelare della filosofia occidentale arriva alla conclusione che la più alta sapienza che sia dato di raggiungere ad un essere mortale e la consapevolezza di non sapere, cioè la consapevolezza della propria ignoranza. Ecco allora che quel motto delfico, quell'invito a conoscere noi stessi, sembra destinato appunto ad una sorta di fallimento. ma ad un fallimento che in un certo senso è liberatorio perché ci libera proprio dal pregiudizio, dalla presunzione di aver compreso ciò che in realtà non abbiamo compreso. ci purifica in un certo senso dalla illusione di aver tutto chiaro nella nostra mente quando in realtà la nostra vista è offuscata e credendo che tutto sia chiaro non facciamo altro che permanere nell'equivoco di chi ritieni di aver compreso tutto senza aver compreso nulla. Sì